e ciao a tutti unicorni e unicornine benvenuti e bentornati in questo nuovo video allora oggi come si è letto dal titolo appunto partiamo dal fatto che quest'estate non ho fatto video di quando sono andata in vacanza perché allora soprattutto quando sono andata in vacanza facevo sia vacanza che compiti quindi non avevo tempo ma poi pure se facevo dei piccoli vlog video così venivano piccoli appunto e non fatti bene quindi mi dovete scusare però adesso vi appunto riassumerò tutta quest'estate allora è finita la scuola a il 7 giugno io sono una fino a mi sembra il 3 giugno il 4 giugno e niente poi è finita e ho cominciato a fare i compiti la seconda settimana di luglio dal 22 al 28 dal 21 al 28 siamo andati in un villaggio in calabria in cui andiamo da quando sono nata appunto andiamo da 11 anni e questo era l'undicissimo anno che andavamo lì in calabria a paola in cosenza appunto e niente siamo andati con degli amici e siamo divertiti però se volete vedere foto di quest'estate scrivetelo qui sotto nei commenti poi siamo tornati appunto il 28 e siamo fatti tanti compiti fino al 15 perché poi il 17 è venuta da genova e appunto mi ha fatto una sorpresa e non ho registrato video perché appunto non sapevo che lei mi piaceva questa sorpresa e neanche lei è venuta da genova qui ha mi ha dato anche appunto una collanina con il cuore e l'infinito e la teniamo uguale e gli mando un bacione si chiama asia e niente poi il 2 siamo andati appunto ad ascea in cilento andiamo sempre da quando avevo 7 mesi e quindi questo era all'undicissimo e dodicissimo anno che andavamo e appunto siamo andati dal 2 fino ad oggi infatti siamo tornati alle 2 siamo arrivati alle 4 e qualcosa e niente adesso sono le 10 di sera le 10 di sera 20 e appunto siamo tornati oggi e neanche la ho fatto i video perché appunto non avevo neanche come si dice il tempo di guardarmi in faccia perché ho fatto compiti e mare compiti e mare compiti e mare la sera uscivo e niente quindi mi dovete scusare però quest'estate siamo andati anche in un parco che si chiama parco del grassano e appunto abbiamo scattato quelle questa è quella di serena e invece questa è quella mia e qui c'è mamma e qui c'è la la papera penso sia la papera sì e io cercavo di dargli il pane ma lei quindi niente beccava non il pane ma la appunto la canova e il remo e niente vi vorrei far vedere anche gli acquisti che ho fatto quest'estate non ve li farò vedere tutti perché sono davvero tanti 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 e molti me li sono pure dimenticati però ve li voglio farvi dire allora partiamo da questo pantaloncino appunto di jeans non è elastico qui stracciato così è molto carino pagato 20 euro della good good art e niente questo che ho comprato da un negozio qui giù da me poi quest'altro pantaloncino appunto che si illumina al buio ragazzi lo amo e niente così mi vorrei comprare anche il giudino o la maglia vedete è molto carino che appunto si illumina al buio se volete delle foto sempre di questo scrivendelo qui sotto nei commenti questo pagato 10 o 12 euro sempre comprato da un negozio giù da me poi questo pantaloncino qui è molto piccolo infatti lo devo passare serena e l'ho comprato piccolo non so perché e della benetton vedete appunto un jet colors of benetton e che è la taglia S e niente lo devo serena perché a me non va appunto non so perché l'ho comprato questo mi sembra stava sui 20 euro non ricordo bene poi il pantalone lungo della benetton vedete eh taglia M appunto credo che stennetti li siamo scambiati eh quindi secondo me a me taglia S vedete è piccolo perciò dico a vero ti li saremo scambiati così molto semplice vedete molto carino e niente questo mi sembra una pagata sempre sui 20 25 euro poi ho comprato appunto quando sono andata adesso ad ascea eh la felpa della levis ve la faccio vedere pagata eh 70 euro appunto originale vedete è molto carino nera eh con la scritta bianca e il contorno rosso cerchiamo di pisarla non lo so più così così scusatemi per per appunto la tweet però ho messo questa cantina molto carina per chi tra poco devono andare a dormire cioè non tra poco vabbè comunque mi sono messa comoda poi ho comprato da Chiavi questa cinta vedete è molto carina con tutti i buchi e l'ho pagata 8 euro mi ricordo molto bene che però qui l'ho rotta e la devo incollare con la tagga vabbè molto carina è anche molto semplice è dura poi ho comprato quest'altra cintura dalla Valley Project ok vedete questa qua quella morbida appunto che scende che scende eh e la taglia è 100 sì vedete 100 questa l'ho pagata 10 euro mi sembra sì 10 euro e anche questa molto carina però al contrario di questa con non ricordo come si chiama con questo quadrato molto carina e niente appunto mi dovete scusare per questa estate che non ho pubblicato tanti video appunto ne ho pubblicati pochi però su Minecraft e Roblox mi sembra anche qualcuno su Mini World comunque spero che il video vi sia piaciuto vi mando un bacione un abbraccione e al prossimo video ciao